Scusa, perché non usi la mascherina? Ah non so, adesso me la metto. Sai che si rischia una multa? Sì, lo so. Nonostante i controlli dei carabinieri finalizzati alla verifica del rispetto delle misure del contenimento della diffusione del Covid, a Montebelluna ci sono ancora ragazzi e adulti che non rispettano le norme. La mascherina la tengono in tasca e le distanze con gli amici non le rispettano. I controlli effettuati sabato sera dai militari dell'arma in piazza Negrelli lo testimoniano. Ben 23 giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni sono stati multati perché senza mascherina e senza alcun distanziamento. Misura che fortunatamente in larga maggioranza tanti giovani condividono approvando la punizione sanzionatoria. Beh secondo me hanno ragione perché se continuiamo così rimaniamo chiusi in casa come siamo già stati. E che i ragazzi d'oggi alcuni non prendono questa cosa troppo seriamente, la prendono sotto gamba. È importante usare la mascherina? Beh certo, sia per proteggere noi che proteggere gli altri. Bisognerebbe portare la mascherina per tutto quello che è successo in questo periodo, per il rispetto di chi è morto bisognerebbe. Allora hanno fatto bene a dare la multa? Sì, sì. A finire nei guai nella stessa piazza anche il titolare di un esercizio commerciale che sarà segnalato alla prefettura di Treviso per aver omesso di far rispettare agli avventori le norme previste. Quasi 400 le persone controllate a Treviso e in provincia, una settantina i locali ed esercizi pubblici monitorati a Castelfranco Veneto, Vittorio Veneto, Conegliano e Mogliano, dove i carabinieri hanno controllato una settantina di auto lungo il Terraglio e assieme a Inassa hanno multato il titolare di un bar per un totale di 4.000 euro per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie. Controlli anche della Polizia Municipale di Treviso che ha sanzionato tre giovani, due diciottenni di Ponzano Veneto e un diciannoenne di Silea che giravano abbracciati con bottiglie di alcol in mano senza mascherina. Grazie a tutti.